Attenzione, ho una previsione e la lascio qua, qui con me ho le regine rosse e le regine nere, non si vede ma ci sono le regine rosse e le regine nere, non è l'effetto della regine rosse oppure le nere? Stefano ha scelto le nere, quindi Luigi a me rimane una di cuori e una di quadri, scegli una anche tu, cuori o quadri? Quadri, quindi Stefano ha scelto le due regine nere e Luigi la regina di quadri, è il momento di aprire la mia visione, manca una e come l'unica regina affacenata è la regina di cuori, quella che voi non avete scelto, ma ero talmente sicuro di questo che anche l'unica ha corso rosso e siccome le altre tre le hanno Stefano e Luigi, non posso scelto? Nooo! Grazie mille! Grazie!